Due palcoscenici internazionali per un pezzo di storia che fa del Molise un ponte per la scoperta del rinascimento adriatico. L'Expo di Milano nel 2015 e Matera, capitale della cultura, nel 2019, hanno acceso i riflettori su Michele Greco da Valona, un artista controverso. La figura di questo pittore, infatti, proveniente dall'antica città portuale di Valona nell'Albania meridionale, non ha incontrato una particolare fortuna ed è rimasta nell'oblio a lungo, forse proprio perché le sue opere italiane sono presenti a Vasto, in Abruzzo e a Guglionesi in Molise, in luoghi poco conosciuti in passato da critici e ricercatori. È stato un artista abbastanza eclettico, ha dipinto delle madonne tra santi e in modo particolare si è concentrato proprio sulla raffigurazione delle opere mariane di stile bizantino, quindi delle famose icone. Il trittico della Madonna delle Grazie con i Santi Sebastiano in Rocco, realizzato a tempera su tavola e concluso nel 1505 è stato esposto per tutto il tempo dell'Expo nel padiglione Il Tesoro d'Italia di Milano a cura del critico d'arte Vittorio Sgarbi. C'è una Madonna con bambino seduto e quindi con un bambino che rega un Vangelo, ma la caratteristica di questa Madonna, di questo trittico è che praticamente richiama un po' una leggenda balcanica. Evidentemente Michele Greco si è portato dietro questo mito dei Balcani, di questa famosa leggenda di Rosa, fatta una donna, una fanciulla che si è fatta morare viva, chiedendo che le fosse lasciata aperta sul petto una mammella, perché da questa mammella potesse sgorgare il latte non soltanto per alimentare il suo bambino, ma per alimentare l'intera umanità. Un altro capolavoro di Michele Greco da Valona finito sotto i riflettori del mondo è il trittico della Madonna tra Giovanni Battista e Santa Damo, arrivato a Matera nell'anno della capitale della cultura con altre 180 opere provenienti da tutto il mondo e simbolo di eclettismo e contaminazioni artistiche. In questa raffigurazione Gesù bambino in piedi tra le braccia della Vergine con il dito alzato verso l'alto indica la retta via, da questi particolari si cerca di capire da quale scuola provenisse il pittore. Qualcuno diceva che veniva dalla scuola ad Almata, che fosse un madonnaro che attraversava l'Adriatico, ma all'epoca insomma c'era a Venezia sicuramente la scuola degli albanesi come la scuola anche degli schiavoni, dove si riunivano gli artisti di vario genere provenienti anche dall'Albania e che presso questa scuola praticamente coniugavano lo stile bizantino con lo stile rinascimentale, quindi del rinascimento italiano. Da un'apertura della navata destra della chiesa si accede alla cripta di Santa Damo, uno spazio che si presenta semi interrato con tre absidi, una copertura crociera sorretta da piccole colonne che termina in un'area dove ci sono degli affreschi che raffigurano la genesi. Episodi che vanno dall'arca di Noè alla creazione di Adamo ed Eva e poi ci sono l'ebbrezza di Noè, il peccato originale, la cacciata dal paradiso e gli episodi di Caino Abele e della torre di Babele. Forme, colori e sfumature delle composizioni che rievocano lo stile con cui Michelangelo, tra il 1508 e il 1512, realizzò il racconto biblico più famoso al mondo. Non a caso, la cripta di Santa Dama Guglionisi è definita una piccola cappella sistina.